Abbiamo con noi il vincitore dell'evento 7 campionato italiano shot out, Andrea Izzo. Andrea, impressione a caldo dopo questa vittoria? Sono felice di aver il risultato raggiunto e spero di farne ancora altri in questi giorni. Senti, all'inizio del torneo avevi pensato che potevi essere tu il vincitore di questo evento? Se devo essere sincero, no, perché ero abbastanza corto ai primi livelli. Dopo ho avuto un po' delle mani fortunate e mi sono raddoppiato. Quando hai avuto la sensazione che sentivi che questo sarebbe stato il tuo torneo? Quando tra virgolette è scoppiato Napoli con 8-10 a pic, lui ha la sua cappa, è uscito un 10-flop. Mi sono raddoppiato più di 200.000 chips e lì ci ho creduto. Quindi visto che sei il campione italiano, ricordiamolo, di questa specialità shot out, noi ti auguriamo ovviamente di essere qui con noi il prossimo anno. Certo, sarò qui. Certo, sarò qui. Certo, sarò qui. Grazie a tutti.